Pochi uomini in divisa e molti rischi, soprattutto legati all'eccessivo consumo di bevande alcoliche ad Acate. E' quanto denuncia il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Carruba, subito dopo aver appreso di una rissa avvenuta all'interno di un bar intorno alle 2 di notte. In zona San Vincenzo, dietro il castello, gli abitanti lamentano disordine, schiamazzi e atti vandalici fino a tardanotte. Ma quello che preoccupa è l'esiguo numero di controlli, dettato dalla scarsa presenza di uomini di polizia locale. La stessa ordinanza contro la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro, seppur emanata, non può essere controllata a dovere. Lo scorso fine settimana, racconta il consigliere Carruba sul lungomare di Macconi, Ho notato tante, ma tante bottiglie di birra muoversi nel buio, data l'illuminazione carente. Notavo anche che le bottiglie barcollavano, e ciò mi faceva pensare che i bevitori fossero già colmi. Qualcuno, infatti, era accasciato a terra. Proseguo la passeggiata e incontro il sindaco di Natale. Scambio quattro chiacchiere, gli racconto preoccupato le scene viste prima, e mi conferma che l'ordinanza sul divieto dei contenitori in vetro è attiva e notificata. Ma per farla rispettare, occorrono uomini in divisa. Il giorno dopo, l'amara notizia di una rissa, avvenuta proprio intorno alle due di notte, all'interno del bar notato la sera prima. Da un lato, persone, vistosamente ubriache e fradice, a cui è stata negata, giustamente, la somministrazione di alcolici. Dall'altro, il proprietario a difendere la propria incolumità è quella dei ragazzi lì presenti, pur non riuscendo ad evitare il danneggiamento di alcuni tavoli. Insomma, conclude il consigliere, le leggi ci sono, ma manca il personale, capace di farle rispettare. Per questo, Carruba invita l'amministrazione e tutte le forze dell'ordine a intervenire in sinergia in azioni di prevenzione e repressione. Il problema però resta, dato che proprio ad Acate a mancare, così come confermato dallo stesso comandante dei vigili, sono le unità di polizia, anche se c'è piena volontà di fare tutto il possibile. Grazie a tutti.